Qual è la strada a seguire? Quella che abbiamo potuto constatare in questi giorni, nel senso che siamo disponibili a lavorare su maggiori poteri per gli organismi territoriali, regioni in testa, ovviamente ci devono essere dei contrappesi, quindi i livelli di prestazione essenziali devono essere garantiti a tutte le regioni italiane, in modo particolare quelle che sono maggiormente fragili e quindi questo lavoro che si sta facendo è propedeutico esattamente alla conquista dell'obiettivo della pari dignità e delle pari opportunità per tutte le regioni italiane. Attrito? No, abbiamo sempre posto noi il problema dei LEP e quindi penso che sia perfettamente in sintonia la Lega con Fratelli d'Italia.